Mi chiamo Matteo Fagioli e faccio parte del team dell'ospitalità del contadino Mousano Appoggio Torselli. Sono nato e cresciuto nel territorio san cascianese e quindi da sempre sono appassionato al mondo del vino, grazie anche alla famiglia, agli amici e ovviamente quelli che oggi sono i miei colleghi di lavoro e quindi diciamo l'ambiente in cui sono nato e cresciuto ha giocato un ruolo importante per il mio avvicinamento appunto a questo bellissimo mondo. Uno dei ricordi più belli soprattutto quando abbiamo bevuto le Chianti Classico Gran Selezione è stato appunto un anniversario che è il proprietario dell'attività del proprietario. Abbiamo aperto una bottiglia, non posso dire una Geroboam, ma di questo vino e è stato veramente bello, emozionante sia vedere appunto negli occhi del proprietario questo suo traguardo personale e condividerlo con tutto lo staff e con tutto il team a partire da appunto le persone che si occupano come me dell'ospitalità fino appunto alle persone che lavorano in cantina o nel campo che sono fondamentali per l'azienda è stata una bella emozione.